La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacque ha voluto realizzare una collana che si chiama A Pesca in Città per offrire un prodotto ai pescatori e anche ai non pescatori che permettesse di visualizzare tecniche di pesca, situazioni di pesca in diverse città italiane, in città che contemporaneamente offrissero anche un qualcosa di culturale, di artistico legato alla città stessa. Quindi i servizi sono stati fatti in pieno centro metropolitano, delle città di Torino, di Firenze, di Roma, di Verona, di Catania, abbinando spesso e volentieri dove era possibile, dove c'era il mare, situazioni di mare con situazioni d'acqua interna e realizzando un prodotto che, come dicevo, con la collaborazione dell'amministrazione locale, consentisse di far vedere, con gli occhi di un pescatore, quindi dal fiume, dall'acqua, dove veniva esercitata l'azione di pesca, le bellezze della città che gli stavano dintorno e quindi, insisto, musei, situazioni, statue. Questo ha permesso di realizzare un prodotto, direi, molto diverso dal solito, perché non c'è solo l'azione di pesca in se stessa, anche se la pesca è trainante in questa serie di filmati, realizzati con tutti i personaggi della federazione, con campioni del mondo o con persone grandemente esperte nel tipo di pesca che si doveva realizzare in quel particolare ambiente, ma è una pesca vista, come vi dicevo, con un occhio diverso, una pesca che non vede solo il pescatore, ma vede il pescatore anche come cittadino e che quindi si deve guardare intorno per vedere cosa c'è intorno a lui e non solo il pesce davanti a lui. Credo che il prodotto sarà di vostro gradimento, penso che sia stato realizzato veramente un ottimo prodotto, vi auguro una buona visione. Grazie a tutti. È questo il modo migliore per fare la conoscenza di una città unica, Firenze. Bisogna salire in alto sul viale dei colli che circondano morbidi la città come una preziosa corona, tempestata di palazzi patrizi e torri rinascimentali, in gara tra loro per conquistarsi la vista migliore su questa perla di storia, arte e bellezza immutate nel tempo. Anatole Franz nel 1894 parlava dell'origine divina delle colline di Firenze. Il dio che ha creato questi colli era un artista, un orafo, uno scultore, un dio che sapeva lavorare il bronzo e anche un pittore. In breve quel dio doveva essere Fiorentino. Ma Fiorentino doveva essere anche il dio che decise di tracciare il corso del nastro d'acqua che solca Firenze. L'Arno, il fiume d'argento sulle rive del quale grandi scrittori e poeti d'ogni tempo hanno trovato ispirazione. Tutto è piacere in minare tra i palazzi storici del centro, immergersi nei toni caldi dei suoi colori, i rossi, i gialli intensi e i verdi da pennellare nelle frequenti giornate di tempo sereno. Ma prima ancora di scendere in basso per conoscere da vicino le bellezze di Firenze, questo osservatorio privilegiato dal quale la ammiriamo merita qualche parola in più. Siamo a Piazzale Michelangelo, tappa obbligata per le frotte di turisti che in ogni stagione affollano Firenze. I venditori ambulanti di Souvenir non distraggono l'attenzione dal panorama ineguagliabile. Poco più in là, al riparo dal traffico dei pullman turistici, la chiesa di San Miniato al Monte con i suoi baluardi difensivi progettati da Michelangelo e i suoi marmi preziosi ci regala il primo assaggio della migliore architettura romanica fiorentina. L'Arno accompagna il percorso in città. Per chi non desideri perdersi tra i quartieri antichi di Firenze, il fiume resta un prezioso punto di riferimento e i maestosi lungarni, in fondo ai viali del centro, sono il modo più piacevole per godersi il sole in ogni stagione. Frequentare con assiduità questo fiume e apprenderne i segreti con umiltà può riservare piacevoli sorprese, come l'incontro con Jacopo Falsini, un giovane campione mondiale tutto italiano. Lo incontriamo al Cigno, uno dei tratti di fiume cittadino più pescosi. Qua siamo a pescare al Cigno. È molto conosciuto tra gli agonisti che è un posto che dà veramente tanto pesce. Infatti, quando vengono fatte delle competizioni, generalmente i pesi più grossi vengono effettuati in questo tratto qua. Questo fiume qui, oltre a essere uno tra i più ricchi fiumi dove si può praticare competizioni, offre tanto divertimento anche ai pescatori che vanno a pescare per divertimento. È un posto che, se c'è la competizione, diventa un po' più difficile, ma per pescare per divertimento c'è molto pesce. Uno qualcosa prende sempre, condizioni permettendo che il fiume abbia un livello regolare e non sia sporco perché magari c'è stato dei temporali. Occorre tornare indietro nel tempo per capire le emozioni che un fiume può far vivere a un campione come Jacopo. Le immagini sono quelle della prova finale di pesca al colpo durante i giochi mondiali di pesca sportiva svoltisi in Toscana nel settembre del 2000. La pesca al colpo, la più classica delle specialità, un po' come i 100 metri per le Olimpiadi. L'anno del Giubileo è stato un anno glorioso per l'arno dei cinque cerchi olimpici e per la squadra italiana. La semplicità di questo giovane campione, il più giovane degli azzurri, e il suo controllo hanno decretato il grande successo per la nazionale italiana sia nella prova a squadre che in quella individuale. Primo in entrambe le prove, insieme al compagno Francesco Casini, di fronte alle più forti squadre del mondo. Agli occhi del profano, lo spiegamento di forze sulle rive del fiume era già di per sé uno spettacolo. Più che un mondiale, sembrava una fiera gioiosa. 4.500 persone impegnate nell'organizzazione, più di 4 chilometri di sponde occupate dalle compagini di atleti di tutto il mondo. Quello stesso tratto di fiume cittadino era stato tirato a lucido nei giorni precedenti le prove. L'arno pattumiera si era trasformato in un giardino. L'erba alta delle rive, dove si nascondevano le immondizie gettate con incurante disprezzo dai parapetti, una volta tagliata aveva creato delle comode piazzole per i garisti. Le alghe che infestavano le sponde, delle vere e proprie trappole per gli ami dei concorrenti, erano state eliminate con cura e l'acqua era tornata ad essere quella di uno dei fiumi più belli e sicuramente più pescosi d'Italia. Il lavoro instancabile dell'organizzazione aveva ridato dignità e vitalità al fiume e ancora una volta la pesca aveva ricordato ai più distratti il giusto rapporto con la natura. Più di 7.000 spettatori hanno assistito curiosi a questo vario pinto spettacolo, atleti inglesi, francesi, tedeschi, ma anche sudafricani, venuti da una terra lontana, non solo geograficamente. È un bel fiume, pieno di pesci, in alcuni punti è un po' sporco, ci sono zone con poco fondo e subito accanto buche molto profonde. Ieri è andata male e oggi è anche peggio. 24 pesci, ma piccoli così. Qui a Firenze è bello per un mondiale. Ci sono belle carpe, pesci d'Italia, a differenza di molte altre parti in Italia dove si prendono solo pesci piccoli. Noi siamo abituati ai pesci grandi, dalle nostre parti usiamo tecniche differenti, per quello siamo andati male qui a Firenze. La concentrazione dei 2.000 pescatori iscritti non ci permette di entrare nei palchetti delle squadre, ma possiamo spiare gli ultimi preparativi prima della sirena d'inizio. Si fanno le ultime prove, si cambiano le montature all'ultimo momento, cercando di capire quale strategia porterà i frutti migliori nelle proprie nasse. L'Arno è il campo mondiale di gara più temuto e più amato dagli agonisti. Il fondo è sempre diverso. Una lenza o un piombo sbagliato di misura possono determinare la riuscita di una prova. La prova ha inizio e i gruppi di amatori che affollano il limitare dei recinti di gara parlano sottovoce tra loro, commentando le scelte dei campioni e cercando di carpire qualche piccolo segreto. Jacopo è concentrato, non si volta neanche a guardare chi è dietro di lui, scruta la corrente e le bolle al centro del letto del fiume, pronto a rimettere in discussione le sue scelte per assecondare le condizioni migliori di pesca. Anche i grandi campioni come Jean Desc possono sbagliare. Il suo compagno Fouja sembra preoccupato. L'Arno è molto pescoso ma non si concede facilmente. Passerà del tempo prima che venga reso noto l'esito di questa importante finale e molti spettatori fanno come noi, ne approfittano per conoscere meglio la città. Piazza della Signoria ci accoglie nella sua impareggiabile bellezza. È lì, ferma nel suo tempo, in posa per gli scatti e per l'ammirazione dei turisti che ruotano su se stessi a testa in su per meglio scorgere le facciate dei palazzi che la circondano. Sembra strano ma anche questa piazza attende la fine delle gare di pesca come noi. Proprio dentro questo splendido palazzo detto Palazzo Vecchio nello spettacolare Salone dei Cinquecento si svolgerà tra qualche ora la premiazione ufficiale dei vincitori. Questo palazzo del potere trecentesco della città alla cui costruzione contribuirono personaggi come Arnolfo di Cambio e il Vasari ospitò dapprima i priori la magistratura comunale fiorentina e poi nel Cinquecento divenne la prima reggia dei Medici la dinastia di potenti banchieri che dominò la città per più di tre secoli. Gli stemmi araldici dipinti sotto gli archetti della facciata testimoniano l'importanza di questa sede nei secoli. Di fianco all'ingresso contrapposta alla loggia della signoria una fedele copia in marmo del famoso David di Michelangelo il cui originale è custodito al museo dell'Accademia. Il simbolo della vittoria della libertà repubblicana sulla tirannide Medicea nel 1503 è tutto in questo giovane e scaltro guerriero che incarna l'astuzia politica del piccolo stato fiorentino. La risposta a tanta insolenza è proprio di fronte al David. Perseo brandisce la testa di Medusa nel capolavoro bronzio di Benvenuto Cellini. Cosimo I de' Medici aveva commissionato quest'opera perché restasse sulla piazza come monito per i nemici della sua casata. Al centro il grande monumento equestre è allo stesso Cosimo opera del Giambologna da rifugio ai piccioni stanchi di fotografie e grano turco. La grande fontana del Nettuno è stata ribattezzata il Biancone dai fiorentini per la mole goffa dell'imponente dio del mare che contrasta con le figure più snelle dei satiri e delle naidi che stanno ai suoi piedi. Tuttavia il gioco delle acque conserva il fascino voluto dall'Ammannati che la costruì nel 1550. Nel frattempo la prova si è conclusa gli atleti smontano le attrezzature e i giudici di gara si apprestano alla pesatura. Adesso Jacopo può finalmente raccontarci come è andata. Finita la gara sarà una mezz'oretta qui a Firenze a casa mia e abbiamo vinto il mondiale per nazioni e io ho vinto l'individuale. Una cosa da non crederci perché vincere un mondiale come pescatore più giovane della nazionale e poi vincerla a casa mia è un'esperienza che penso che la soddisfazione inizierò a avere veramente stasera o domani perché sono tutta ancora prastornata. Oggi per fortuna sono capitato nel settore centrale l'unico senza né testa né coda si usa dire così. Peso della competizione ho fatto 13.880 punti e sono partito a pescare fuori con la canna all'inglese circa 6 metri e mezzo di fondo pescavo scorrevole e ho subito iniziato a prendere il primo lancio avevo già preso un pesce e sono andato avanti così per una quarantina di minuti avevo 7-8 pesci tra cui una carpa su un chilo e mezzo intorno a un chilo e mezzo poi il capitano mi ha detto Fumagalli mi ha detto che la pesca il pesce stava entrando sotto la sponda da pescarlo con la rubasiena sui 14 metri e mezzo come sono venuto ho smesso di pescare l'inglese non ho recuperato a vuoto ho recuperato con un pesce ho calato con la rubasiena avevo tenuto alimentato c'erano subito anche lì pescando più vicino essendo più precisi abbiamo molte meno difficoltà è più facile la pesca e sono andato sono andato bene una vittoria così non si dimentica facilmente anche a distanza di tempo e un salone come quello dei 500 un'area di 53 metri per 22 colma di genio artistico non fa che suggellarne l'importanza gli affreschi del Vasari descrivono i trionfi fiorentini su Pisa e Siena i gruppi marmorei segnano il perimetro della sala ma uno tra tutti è degno di uno sguardo più attento si tratta del Genio della Vittoria un'opera di Michelangelo datata 1525 grazie a tutti nelle località pescari che è il suo sentimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti il fiume ci chiama di nuovo come per mostrarci uno dei simboli più caratteristici di Firenze Ponte Vecchio costruito nel punto più stretto del fiume nel 1345 su tre arcate così solide da durare nel corso dei secoli anche la fortuna lo aiutò a giungere fino ai nostri tempi Ponte Vecchio fu l'unico ponte di Firenze ad essere risparmiato dai bombardamenti tedeschi qui al tempo di Giotto vennero subito create delle botteghe in legno che all'inizio erano riservate solo ai macellai e agli erbi vendoli fu il granduca Ferdinando stanco del vociare dei mercanti ad ordinare che le botteghe fossero sgomberate e che al loro posto sorgessero laboratori di orafi e argentieri in grado di pagare gabelle più sostanziose e così è ancora oggi questo era ed è il cuore pulsante del commercio fiorentino le madielle le classiche vetrine delle botteghe chiuse da sportelli di legno si aprono per mostrare le loro ricchezze collane anelli bracciali di splendida e raffinata fattura che fanno brillare gli occhi delle signore in visita e un po' meno quelli dei loro mariti al centro del ponte uno slargo permette una vista magnifica sul fiume da un lato la storia e la magnificenza dall'altro la bellezza e la tradizione proprio qui sotto su quelle rive erbose dove una volta i fiorentini erano soliti fare il bagno ha sede un circolo storico della città il circolo Canottieri Firenze Io sono Ceri Marco sono socio della società Canottieri Firenze fin dal lontano 1959 nell'attività sportiva sono stato tre volte campione italiano e ho visto un pochino svolgere la vita della società da tanti anni e la società poi ha avuto anche fasi alterne di grandi glorie ma anche di grandi disgrazie come l'alluvione di Firenze di 1966 che distrusse oltre alla città totalmente ma tutte le attrezzature tutte le barche il sudore la fatica di tanti anni è andata distrutta per fare un po' la storia sia della società di questo fiume Arno che è così imprevedibile e così a volte anche pericoloso la società nasce nel 1911 su una specie di palafitta di legno e poi si è trasferita nell'attuale sede che in origine era qui siamo sotto gli uffizi il loggiato degli uffizi fino a Piazza Signoria era l'uscita del del Granduca di Toscana e prima della famiglia dei Medici sotto c'erano le scuderie e loro a cavallo uscivano per andare in campagna tutte le attività agonistiche diciamo acquatiche dal nuoto ai tuffi al canottaggio si svolgevano nel fiume ora in pratica l'attività vera cioè chi è il padrone del fiume sono i canottieri società gloriosi su questo fiume la Rarinanz Florenzia e la canottieri comunali e più a sud della più antica forse società in Italia che è la limite canottieri limite sull'Arno fondata nell'ottocento e la vita era cioè il fiume viveva di tutte queste e la gente appunto c'erano i bagni fin dal tempo dei medici c'erano le lavandaie c'erano i remanaioli e ora appunto il fiume si difende alla meglio fortunatamente non è non è troppo inquinato e si spera che in futuro anche la gente ritorni a vivere il fiume come era una volta il circolo oggi ha organizzato una gara per i giovani che vogliono avvicinarsi al fiume e alla canoa per il momento i partecipanti si fronteggiano in una simulazione a terra una gara di voga sotto la galleria degli uffici 1 e 3 quel pochissimo vince il numero 1 scusa questa è stata un'iniziativa eccezionale perché fino a poco tempo fa per avvicinare i giovani era anche più faticoso uno doveva avvicinare le scuole gli insegnanti indire una leva remiera questa è un'iniziativa che a parte i giornali media ne hanno parlato eccetera ma i giovani anche i più meno atleticamente validi ma con grande spirito sportivo si accostano a questa pratica e infatti ne è prova questa riunione che appunto raccoglie circa 700 atleti che vengono da tutta l'Italia più tutte le scuole fiorentine sì che si spera che anche in futuro veramente ci siano degli appassionati che curano e abbiano a cuore l'attività dei giovani e dello sport allenarsi in ambienti che risalgono al 1300 è la norma per questi appassionati della canoa impegnati a difendere con onore e da generazioni i colori della loro città in realtà tutto a Firenze parla di storia queste acque fecero grande la fortuna della città nata come colonia romana nel 59 avanti Cristo il nome della città deriva forse dai Ludi Florales le celebrazioni in onore della primavera che le conferirono il suo primo nome Florenzia il fiume era perfettamente navigabile in città esisteva un porto che smistava le merci provenienti dal mare e via terra dalla vicina via Cassia durante i secoli la maestria e l'inventiva dei fiorentini fecero il resto nei borghi affacciati sul fiume si crearono le arti i gruppi di sapienti artigiani del cuoio dell'oro della carta del legno che sapevano trasformare le materie prime in manufatti preziosi ogni opera del loro ingegno aveva bisogno delle acque del fiume per prendere forma per questo ancora oggi le botteghe rimaste e le strade che ricordano il fiorire di questi commerci che resero grande Firenze si trovano tutte nella zona che va sotto il nome di Oltrarlo per i turisti che vogliano conquistarsi un piccolo ricordo di questa maestria artigiana tutta fiorentina il mercato nuovo sulla piazza dove un tempo venivano messi alla gogna e alla berlina i malfattori ci mostra una girandola multicolore di oggetti in paglia marocchinerie e carta di Firenze la vicina fonte del porcellino che in realtà è un cinghiale invita i più romantici a gettare una moneta nelle sue acque per essere certi di tornare in questa città prima o poi la sera non riesce a togliere nulla la bellezza di questa città la luce dei lampioni sui lungarni regala un fascino elegante alle facciate dei palazzi proprio ai piedi di tanta bellezza sfruttando la posizione di una banchina al centro del letto del fiume proviamo ad insidiare qualche preda in compagnia dei nostri amici fiorentini questo posto tra il Ponte delle Grazie e Ponte Vecchio si chiama la Pescaia delle Rose ed è un luogo ideale e tranquillo per gli amanti della pesca difficile immaginare un luogo più bello di questo per pescare alle nostre spalle la chiesa di Santo Spirito disegnata da Brunelleschi davanti a noi una lontra che si sposta nuotando silenziosa da una riva all'altra i passanti non riescono a scorgerci protetti come siamo dal buio del letto del fiume sull'acqua solo i bagliori verdi delle nostre starlight anche se la pesca stasera non sarà memorabile lo spettacolo che ci regala Firenze è già per noi una grande ricompensa grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Da qui in alto l'Arno sembra distante e la città immobile come una cartolina. In realtà il rumore dell'acqua è più vicino di quanto non sembra. Anche se la città sembra molto lontana siamo a Rovezzano appena fuori Firenze. Fra qualche chilometro l'Arno perderà molta della sua naturalezza e del suo incanto. Il fiume viene incanalato e le sue sponde chiuse da argini in cemento per servire ai molti usi industriali di questa zona. Questo tratto però è ancora integro è più piccina di un'acqua, perché è un'acqua che è ancora più vicino di un'altra città. di Firenze, perché era lì dove Larno concedeva la sua acqua alla pianura, che la terra dava il pane alla città. A Rovezzano si svolge una finale d'eccellenza, valevole per i campionati italiani. I migliori atleti, provenienti da tutta Italia, sono schierati qui, su queste comode rive erbose. Il copione è quello dei grandi eventi agonistici, distesa di canne da pesca, studio delle tecniche migliori per catturare le prede di maggiori dimensioni. La posizione di pesca è ancora una volta determinante. L'alternarsi di fondali bassi e di buche profonde mette in difficoltà i garisti. Questa sembra essere una costante per chi gareggia in Arno. In realtà questo fiume è una scuola severa anche in realtà. per chi lo conosce fin da bambino. Lasciamo che i giudici compiano le ultime operazioni di pesatura delle nasse e raggiungiamo il Cigno, un luogo che i pescatori fiorentini e non conoscono molto bene. Terminate le gare, fuori da ogni ansia agonistica, troviamo il momento più adatto per parlare con alcuni pescatori, amici storici di Jacopo. Simone Fabi è un mio grandissimo amico. Ho conosciuto che avevo 12-13 anni, grande amante anche lui della pesca e delle competizioni. Abbiamo fatto per 5-6 anni le gare nella società, poi ho cambiato, lui è ancora lì. È un ragazzo che mi ha insegnato molte cose. È veramente bello comunque avere nel tempo delle amicizie che si sono consolidate e sono diventate sempre più grandi. Ho pescato all'inglese, scorrevole, con galleggianti da 10 grammi, innescando vermi e mais e tirando pastura. Ho preso diverse carasse e poi qualche carpa, perché l'Arno ti dà la possibilità di pescare anche in questa maniera. Perché l'Arno è uno degli unici fiumi dove si può pescare con qualsiasi attrezzo, diciamo da rubasien, da canna all'inglese, da bolognese, da canna fissa, in tutte le maniere. Perché andare a pescare per me è una cosa importante nella vita. Io non riesco a… Io se vuoi pescare un pazzo, il problema è questo. A me piace andare, o che vinca o che perda. Mi piace, mi piace pescare, in tutte le maniere. A me mi ha dato molto nella mia vita, ho avuto delle soddisfazioni. Sono stato in nazionale, ho vinto un campionato del mondo nel 1993, pure facendo la riserva, però, insomma, mi sono levato alle belle soddisfazioni. Poi per tenere il passo e rimanere, dopo bisogna avere anche altre circostanze di lavoro, di tante cose. Una carpa di buone dimensioni impegna Simone in un ingaggio estenuante. La tecnica che Simone stava usando non è la più indicata per trarre a riva questa grande preda e il rischio di rompere rende questo momento più esaltante. Questa carpa mi ha fatto fare una lotta di 40 minuti per riuscire a tirarla fuori, perché avevo il terminale molto sottile, quindi, insomma, comunque alla fine questa grande lotta ci si è fatta a metterla nel guadino. Un bel pesce, lo giudico sui 7 kg, però giudicheranno quando verrà a vista. L'esperienza di un pescatore si misura in queste circostanze. Senza fretta, lasciando che la carpa esaurisca piano piano la sua volontà di resistere, Simone attende che arrivi il momento giusto per recuperare. Musica L'Arno offre la possibilità di poter pescare con tanti tipi di tecniche. Uno può pescare con la ruba sienne e prendere i pesci, può pescare con l'inglese, tra l'altro può pescare anche scorrevole, come ha pescato oggi Simone, che è una tecnica che in Italia viene sfruttata poco, probabilmente perché non ci sono tanti posti da poterla applicare e poi anche perché comunque è un pochino più difficile rispetto alla pesca con il galleggiante fisso. Poi uno può pescare con la bolognese, con le canne fisse, lunghe, quando facciamo le gare magari che l'acqua si alza può rendere ancora la pesca all'alborella. C'è un fiume che praticamente ti dà la possibilità di imparare, comunque pescare in tutte le maniere possibili che uno poi pratica nelle competizioni. Siamo a pescare anche con Sommilli Giancarlo, che tutti nell'ambiente della pesca a Firenze lo conoscono come Calimero. Oramai è un'istituzione, è un garista che è ancora, che è comunque vicino a 70 anni o giù di lì, ora non lo so di preciso, ha una grinta che sembra un ragazzino di 15 anni e lui è stato uno tra quelli che mi ha insegnato per primo, perché la mia prima società di pesca è stata l'APD, l'Ondi di Firenze. Lui praticamente era in quella società lì, per cui quando ho iniziato a pescare mi ha seguito molto lui, anche l'Ondi, ma mi ha insegnato tante cose e mi ha aiutato molto a crescere, a imparare prima tante cose. Io sono nato sull'Arno praticamente, ho sempre pescato, 35 anni di gare, garista Ancallito, specializzato in pasterello, quella è la mia pesca, non hanno mangiato di molto, i galleggianti, equivale ai galleggianti di pesca normali, secondo l'acqua come va e come va, ma di solito normalmente acqua insomma lenta oppure ferma, il piombo e il pasterello devono sarare il galleggiante, cioè deve rimanere solamente quella stina fuori e si vede e non si vede, perché va pescato proprio a pelare il fondo, questo ti dà modo se il pasterello o per il pesce o per altre cose si fa, te praticamente il galleggiante ti salza e lo vedi e vedi che non c'è più pasterello, secondo ti rende utile perché poi anche pescare a galla o a mezz'acqua, perché il galleggiante non va a fondo, io stamani l'ultima l'ora e mezzo ho pescato a galla, mi davano lo stesso, anzi mi davano di più. A volte questo pasterello è troppo grosso per questo piombo, allora se ne leva un pochino, bisogna adattarsi, capito? Anzi, guardiamo se ci sta se ci sta a galla questo che grosso. Perfetto, sta calando, vedi sta calando, ecco ora è in pesca perfetto, con un pasterello così c'ho un grammo e mi sta perfetto. Abbiamo deciso di pescare in tre maniere diverse, proprio per far vedere delle immagini diverse. Io ho pescato con la Ruba Sien a 13 metri, praticamente la montatura ho fatto con un galleggiante da 2,5 grammi, con un blocco di pallini a una cinquantina di centimetri dall'asola, dove poi ci ho messo il finale e sull'asola ho messo due pallini del numero 7, perché c'è talmente tanto pesce che si vedevano anche delle boccate inalzate. Ho usato un finale del diametro 0,12 e un amo del 12, ho pescato sia con tre bigattini che con il mais. La pasturazione, ho tirato all'inizio un po' di pastura e poi dopo ho alimentato con delle palline di bigattini incollati con della ghiaia dentro. Il pesce quando è caldo, specialmente quando non siamo in gara, tende a sollevarsi, per cui all'inizio uno deve magari impostarla più sul fondo, poi se vede che il galleggiante non si assesta mai, può anche provare a togliere un pochino del fondo e magari sbaglia meno a boccate. I giovani si avvicinano alla pesca, però alla pesca diciamo da poeta. Poi quando subentra l'agonismo allora si va incontro a delle spese non irrilevanti e i giovani poi dopo, questo si accosta sempre da 10 a 15 anni, poi dopo comincia un altro interesse maggiore, molti si perdono per la strada. Oltretutto la federazione sta facendo anche delle scuole di pesca, proprio nelle scuole, le scuole medie ora le sta facendo, per cercare di riavvicinare un attimino i giovani all'Arno. Anche perché la vita in città, penso che io ho vissuto a Firenze, ma penso più o meno i problemi siano un po' ovunque, che quando un genitore ha dei figli che iniziano a avere 12-13 anni, ha tantissime paure, per tutti i motivi purtroppo che vediamo che succedono tutti i giorni. Ecco, se uno ha un contatto con un fiume magari passa meno tempo nelle sale giochi, in dei posti che comunque vengono più presi di mira dai grandi che vogliano cambiare rotta ai giovani. Chi abitualmente pesca a Firenze ha solo voglia di pescare. Per parlare c'è sempre tempo. Bisogna sapere aspettare per riuscire a cogliere qualche riflessione più personale e soprattutto per capire che il rapporto esista tra il fiume e i suoi concittadini. Per me molti fiorentini non sanno nemmeno perché li fa salare sotto al naso, specialmente la gente ricca, diciamo. Quelli proprio non sanno nemmeno... Cioè, la gente benestante stanno bene, stanno sull'Arno, tipo sugli Ungani, se affaccio non guardano nemmeno i che c'hanno. Se ne rende a mio conto c'è invece tantissime altre persone che sanno che questo fiume è una cosa meravigliosa per la città, per tutto. A Firenze siamo tutti sinceri, non si riesce a nascondere nulla. Noi, nel bene o nel male, è difficile che si riesca a tenere qualche cosa di nascosto. Certe cose magari si sentono di più e si dicono di meno. Iapoli l'ho conosciuto quando aveva 15 anni, 16, e siamo diventati amici, amici per la pelle, cioè amici senza pelle sulla lingua, cioè qualsiasi cosa. E poi ha vinto questo campionato di mondo, è stata una delle cose più belle in assoluto che un pescatore può riuscire a fare. E io glielo dissi, forse sono stato uno degli unici, gli ho detto a te se ti faranno pescare ti vincerebbe sto campionato nel mondo. E ci è riuscito, quindi credo è stata una delle cose più belle, soddisfazione e tantissime altre cose. E' un'emozione, ero più emozionato di noi, perché li vogliono bene, l'estadio non conosceva quando era così. Jacopo gli ho sentito a camminare, a correre, e l'ha parlato a sé. Si è passato dei bel momenti, siccome. Queste pudiche dichiarazioni racchiudono i valori più importanti. L'amicizia che rinsalda i rapporti, le giornate passate a pescare allegramente insieme o a esorcizzare le ore prima di una gara importante. Il rispetto per chi ha raggiunto i traguardi per primo e ha saputo trasmettere ai più giovani i propri insegnamenti. In tutto questo la pesca forse è solo un dettaglio. E' bello anche, facendo delle competizioni, inserirsi proprio in dei gruppi e praticamente viene proprio fuori una vita sociale. Cioè, nascano delle amicizie, dei rapporti, che uno poi fondamentalmente si viva anche per quelle cose lì. Lasciamo i nostri amici a divertirsi ancora un po' e torniamo ad immergerci nel carosello artistico del Centro Storico di Firenze, una città dove l'arte va presa a dosi moderate, altrimenti rischia di stordire. In realtà, l'effetto che il Duomo provoca è molto vicino allo stordimento. La grande mole della chiesa di Santa Maria del Fiore sembra smisurata per la piazza che la ospita. Sulla facciata la ricchezza dei marmi di ogni sfumatura e foggia rende unica questa chiesa. Lo sguardo sale immancabilmente verso l'alto, dove la prospettiva sembra avere maggiori vie di fuga, la cupola del Brunelleschi, il simbolo più famoso di Firenze. Le mattonelle di cotto disposte a spina di pesce culminano nella lanterna che poggia su un anello a chiusura di questa struttura magistrale che ancora oggi è oggetto di studi architettonici per la sua statica straordinaria. La più grande cupola del suo tempo correva l'anno 1463, costruita senza armature di sostegno né carpenterie. La volta cresceva semplicemente poggiando su se stessa, sfruttando un equilibrio che ha qualcosa di divino. Il campanile di giotto, che sovrasta i passanti con la sua verticalità, è più basso della cupola di 22 metri. Le formelle, opera di Andrea Pisano, ne decorano il basamento raffigurando le molte attività dell'uomo. A Firenze non ci si dimentica mai dell'importanza delle arti e del commercio. Il battistero se ne sta in disparte, da solo sulla piazza, perfettamente consapevole della sua bellezza. Questo splendido edificio a pianta ottagonale meritò la citazione di Dante nella Divina Commedia. I grandi portali di bronzo sono opera di Andrea Pisano e di Lorenzo Ghiberti. All'interno i mosaici dorati del 1200 descrivono le scene del Vecchio e del Nuovo Testamento. Grandi artisti e grandi scuole. A Firenze si va per imparare. Ognuno qui trova i migliori maestri. Così era ai tempi delle botteghe rinascimentali. Se Michelangelo o Donatello sceglievano un giovane apprendista era segno che per lui si sarebbero aperte le strade della fama e del successo. In tempi più recenti anche le rampolle delle più grandi dinastie di nobi e regnanti andavano a Firenze per imparare. Non le arti, ma quel complesso insieme di regole e comportamenti per il loro ingresso nella società più importante. Imparare a fare le regine, se non di uno stato, almeno del proprio sontuoso focolare. Questo palazzo in stile neoclassico è il famoso convitto femminile di poggio imperiale, il luogo dove l'élite dell'Ottocento e dei primi del Novecento si recava per acquisire un'istruzione degna del proprio rango. Molte principesse sono state chieste in sposa dai loro principi europei quando ancora indossavano la divisa di questo esclusivissimo collegio. Palazzo Pitti, con la sua facciata bugnata e imponente, è oggi una prestigiosa sede di mostre ed eventi importanti. Quando i medici giunsero all'apice del loro potere, il palazzo divenne la loro reggia. Adesso è la reggia della moda, il tempio dello stile e dell'Italian fashion durante le sfilate che si tengono annualmente negli antichi saloni del palazzo. L'Ottocento è la luce di questi paesaggi al buio di una delle più belle chiese di Firenze, Santa Croce. Questo è il luogo dove riposano i resti mortali di Michelangelo, di Galileo e di Machiavelli, ma non solo. Qui, nella cappella Bardi, a destra dell'altare maggiore, Giotto affrescò le mura con il pregevole ciclo dei Santi. Ancora una volta al suo fianco c'era un allievo, depositario della sua maestria, Taddeo Gaddi. La vita e la morte di San Francesco, la sua umiltà e le sue opere sono raffigurate a un passo dallo sfolgorio dell'oro e dalla ricchezza degli arredi sacri, senza che si crei alcun contrasto. A ricordare a tutti che ciò che Dio ha creato può anche distruggere il crocifisso di Cimabue, una meraviglia linea del 1200, irreparabilmente danneggiata dalla furiosa alluvione del 1966. Anche allora Firenze si dimostrò una scuola, una scuola di vita per i tanti studenti che accorsero da ogni parte del mondo per tentare di salvare un patrimonio che tutti consideravano proprio e universale allo stesso tempo. Il fango dell'Arno coprì le cose, le case, le persone. Allora la furia di questo splendido fiume tentò di distruggere la vita e la storia di questa città. Fu questa la più grande prova per Firenze che combatté con coraggio la sua battaglia per l'immortalità. sapendo bene di meritare la vittoria. la sua battaglia per l'immortalità per l'immortalità per l'immortalità. la sua battaglia per l'immortalità per l'immortalità per l'immortalità per l'immortalità. la sua battaglia per l'immortalità. la sua battaglia per l'immortalità per l'immortalità. la sua battaglia per l'immortalità per l'immortalità.